Il Comando dei Supporti Logistici dell'Esercito, che è uno dei comandi del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona, svolgerà in questo sedime della Protezione Civile Regionale della Regione Umbria dal 27 al 29 di novembre un'esercitazione logistica nell'ambito della più ampia esercitazione Atlante 2018 sotto guida del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto. Questa esercitazione logistica si svolgerà in questi tre giorni e prevede due scenari di riferimento. Lo scenario di riferimento del giorno 27-28 è in concorso alla popolazione civile in cooperazione con la Protezione Civile della Regione Umbria con lo schieramento di un ospedale da campo, un field hospital come si dice, in gergonato e di una gestione di transiti di personale eventualmente che devono essere sgomberati da questo Roll 2 a questo ospedale da campo verso nosocomi civili del territorio nazionale. Questo ospedale da campo è stato schierato in quanto, nello scenario di riferimento, i nosocomi civili della Regione Umbria sono inagibili in quanto colpiti da un terremoto e quindi tutto, anche il personale civile di questi nosocomi civili, verrà a operare all'interno del Roll 2 di questo ospedale da campo insieme ai medici militari. Il giorno 29 invece cambiamo scenario e saremo di supporto alla divisione Friuli che è schierata a Firenze in uno scenario completamente diverso al di fuori del territorio nazionale, in uno scenario in una regione ipotetica per un'operazione ad alta intensità. Quindi i primi due giorni in cooperazione con la protezione civile, il giorno 29 invece saremo impegnati con la divisione Friuli nel supporto a queste forze di manovra in un'operazione ad alta intensità al di fuori del territorio nazionale. Ringraziamo l'esercito per quanto ha fatto subito dopo la fase dell'emergenza dopo l'evento sismico del 2016 è stato fondamentale insieme a tutte le altre forze per intervenire in diversi casi, in diverse situazioni e per dare un aiuto alle comunità che hanno subito l'evento, è stato fondamentale. Oggi questa esercitazione è interessante, la seguiamo con interesse perché ovviamente potrebbe essere, noi ci auguriamo che non sia mai necessaria ma potrebbe essere necessaria per un eventuale ipotetico diciamo così evento che possa accadere ovunque nel nostro paese Italia, anche nella nostra regione. Il servizio di protezione civile è a disposizione, quindi noi siamo anche tra virgolette orgogliosi che questa simulazione venga fatta qui a Foligno nella nostra struttura e quindi ospitiamo l'esercito ben volentieri rispetto a questa simulazione, al lavoro che quotidianamente l'esercito fa in favore delle popolazioni, delle comunità che spesso purtroppo hanno eventi di questo tipo. Siamo anche molto interessati a pianificare, a prevedere, prevenire e pianificare, però a volte la cosa migliore è le pianificazioni che si fanno a tavolino, poi hanno sempre anche necessità di un riscontro. E quale migliore cosa è quella anche di fare un'esercitazione per vedere ancorché simulata tutte le difficoltà o tutte le problematiche che poi potremo incontrare in un'emergenza. In questo caso l'emergenza è un'emergenza che si può verificare, se è il venir meno di una struttura ospedaliera e dover impiantare una struttura ospedaliera mobile che sia in grado di supplire all'ospedale che c'era prima, con tutte le necessità sanitarie legate al verificarsi di un'emergenza, con la presenza di feriti, con la necessità ovviamente di prestare cure immediate. E questa è una cosa particolarmente importante in termini di simulazione che ben volentieri facciamo e siamo fortemente interessati alla riuscita di questa esercitazione.